tira ora è partito è partito madonna che bello stanno perforando oh francesco ma stasera allora non sei niente tu francesco è rastratti francesco cavaduri ciupa vediamo per il terzo rigore giopesio si appresta ad entrare in campo giopesio più a destra omerico sei peggio di calac a mare a mare dai lo buttavi a mare ragazzi è qui si stagione stagione di gui e io lo tirei anch'io però guarda qui mi son fatto male che porco d'inci vediamo facciamo questa intervista qui doppia improvvisata al massimo vai vai facciamo intervista doppia non fare il criminale delinquente non me la corraggio nera vai vai ragazzi è intervista doppia ma chi è? vabbè metti i diti di fronte che c'è? ma mi fanno intervista allora lui è giopi sei in diretta con giopi no 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 intervista doppia e che intervista mi fanno? oh fubi sai metti devi rispondere alle domande qua dici allora nome giopesio ragioniere come ha nome? ragioniere quello è il più lungo con cui hai avuto a che fare il mio il mio non mi copiare l'ultima volta che hai fatto l'amore ieri alle 3 a maggio fai un grido aaaah fai un urlo è la stessa aaaah sono stendo l'ultima volta che hai sputato per terra tre minuti fa due ore fa domande specie per il ragioniere se ormai solato e schiacciato aaaah chuuuuba aaaah 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 stop